Jorge Lorenzo, 27 anni, 4 titoli mondiali, 2 in 250 e 2 in MotoGP, pilota straordinario, nel 2013 ha vinto 8 gran premi e ha fatto imprese memorabili. Quest'anno è in difficoltà, problemi tecnici, problemi psicologici? Volete saperlo? Volete scoprirlo? Chiedeteglielo. Avete la possibilità di farlo? Sarete voi a intervistarlo per Moto.it. Vi aspetto numerosi.